Questi sono quaggia, quaggia. Quaggia sono dei snack dolci. Ah buono, maniamo. Oh, andiamo, andiamo. Oh, questi sono... cosa volete provare? Quello che vuoi tu? Dico c'è il... c'è il mangon si zan, c'è il jonton masin n'engos. Però piccoli, piccoli. Sì. Quindi, se che, 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 se che. Ne, 감사합니다. No, 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 no. Ci fa un mix delle quattro cose più... Quindi tu sai di dirci cosa già, cosa abbiamo qua? No. No. No, 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 no. No, 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 no. Sì. Te l'ha detto. Ah? Sì. Sì. Alla prossima. Alla prossima. Sì. Quindi, direttamente nella bussia alla monnetza. No! C'era che bussia? C'era che il motor. Mojoo. Ah, nella bussia alla monnetza? Basta che non puoi. Sì, lo... Questa è tipicamente... tipicamente coreana. Posso prendere uno? Certo. Aspetta un attimo, respira. Ah, Nicola! Sono sempre stato con la vaffa. Grazie! 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 Oh! E questo? Oh! Questi sono tutti snack con corn syrup oligosaccharide. E lo chiamano? Sono in crisi sto. Oh no! Mamma mia, il cannuccio! Il cannuccio? Il zucchero! La palla! Zenzero! Mmm! Zenzero? Sengan! Sengan zenzero! Questo nero cos'è? Il sesamo. C'è? Sesamo nero. Siamo nero con l'amata che in correa. Ah, ce la mangata di si sa? Siamo? Ah! Tu la? Mmm! 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 È? E? È? 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 L'alga, l'alga perché in Corea piace anche il sapore... Ma non è alga, e te mangio. Buono, cara. L'alga, è bello croccante. È buonissimo, ma come fa ad essere così croccante se ce l'hai esposto là qua? È buonissimo. Sì, il secondo vi è un po' è un po' Grazie. La macchina è molto buona. Cosa cosa può usare? In l'alga. Il è giusto? E'oltre o non mi fanno i lavori, ma non ci sono le potenti. Oh, è vero? Il momento in cui non c'è il lato, in cui l'inverno è molto secco in Korea. Quindi, possiamo fare. In questo momento non possiamo fare. Doppi, mediterà, sì. Grazie. Grazie. Non so non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Niente! Non so, non so, non so.